Anche da casa puoi scegliere il tuo futuro. Mi chiamo Mireia e sono una studentessa del secondo anno del corso magistrale in chimica. Ho scelto in Supria, poiché al contrario di altre università molto più grandi e dispersive, non sei solo un numero di matricola, ma uno studente che si interfaccia in un ambiente raccolto e familiare. Un ambiente che è inoltre in costante contatto e collaborazione con le aziende del territorio, al fine di comprendere le esigenze per il futuro dei propri studenti.